ciao e benvenuto sul mio canale io sono marco come sempre ti ricordo iscriviti attiva anche la campanella lascia un like un commento condividi video e iscriviti seguimi anche sulle miei canali social quali facebook o anche instagram lo uso veramente poco ma c'è instagram anche e oppure iscriviti anche al mio gruppo facebook che home recording by marco allemandi ma allora questo nuovo video non faccio vedere non è un tutorial non è non è assolutamente un video dove faccio vedere come mixato ne sto preparando altri su altri brani però volevo parlarti di un prodotto che è appena è uscito da pochissimo della ik mulli italianissima ik multimedia che è questo qui vedete che bellissima questa cosa qua che si chiama mix box che cos'è il mix box il mix box è un come si può dire è un nuovo sistema di plugin con dei plugin tutto integrati dell'icap multimedia è una cosa brutta che ho detto però è una cosa che non hanno né nuova nel senso che è un è un sistema che già altre aziende fanno quali la sleigh digital ti metto sopra il link al video che ho fatto del virtual mix rack questo è lo stesso più o meno stesso principio quello che ci sono un paio di differenze che adesso ti andrò a far vedere praticamente quello che simula tra virgolette questo questo sistema sono i moduli della serie 500 li vedete come grafica ricorda molto la launch box delle hardware serie 500 cosa sono gli hardware serie 500 sono versioni ridotte adesso ve lo dico proprio brutta di hardware più grossi quindi per esempio riusciamo a trovare dei hardware per dire la solid state logic che fa anche il compressore serie 500 il bus compressor l'API fa anche i suoi compressori serie 500 si trovano molti pre della serie 500 alcuni anche molto interessanti e dei prezzi assolutamente abbordabili quello che si secondo me quello che ha l'intenzione questo mix box appunto avere la possibilità di portarsi tutta una serie di plugin in in dotazione nel tuo mix quindi avere compressori equalizzatori e altre cosine adesso ti faccio vedere velocemente che cosa trovi all'interno del tuo mix box benissimo dopo che abbiamo fatto il cambio di inquadratura magari se fosse piantata va bene togliamo l'inquadratura basta non importa il bello della diretta non li taglio questi video giuro ve li lascio così semplici vedete eccomi qui allora ve lo lascio tutto schermo così è molto più semplice lavorare e vederci non faccio esempi audio ve lo dico subito ma vi faccio una panoramica allora il la ik multimedia ci mette a disposizione un trial di 7 giorni questo è il trial e vi consiglio di scaricarlo provarlo e vedere un attimino se vi garba la cosa il prezzo è abbordabilissimo se volete acquistarlo tanto in descrizione sotto vi metto anche il vi riporto il link del prodotto dove lo potete trovare allora come vedete prevede 8 slot qui in alto potete scegliere cosa mettere nei vari slot ovviamente di default compare ed esce senza caricato niente quindi non ho preset cose caricate c'è in basso avete dei preset suddivisi per bass delay drums guitar soliti key e quello che è quindi lui cosa fa vi attiverà una serie una channel una serie di effetti su questa cosa qua dove potete poi andare a lavorarci a parametrizzarli insomma fare quello che volete io vi faccio vedere un paio di cose interessanti vabbè partendo dal channel strip adesso me ne carico uno eccolo qui questo è un channel strip sicuramente ispirato a secondo me ssl come colore adesso proviamo a prendere un altro qua così 81 questo sarà un se non mi riferisco male un niv e equ comp è un altro eccoli qui quindi questi come vedete adesso sono inseriti poi si può fare empty semplicissimo poi andiamo a vedere la cosa interessante a parte i classici compressori tipo black 76 il classico bass compressor di matrice ssl quindi voi potete crearvi la vostra catena come come più preferite quindi la cosa interessante proprio quello però ai capo multimedio non se li metà limitato questa è la novità che secondo me è molto interessante per chi vuole avere un prodotto all in tutto compreso da da portarsi in giro ai capo multimedio non si è limitato a darci quello che per esempio su slide digital abbiamo di base nel senso slide digital mette i classici equalizzatori compressori come si dice altri preamplificatori ai capo multimedio ci dà una cosa diversa adesso ve la faccio vedere che è questa amp ovvero la possibilità di fare un anche avere degli amplificatori virtuali per strumenti la cosa interessante che vedete c'è tipo british abbiamo american vintage poi tanto per dire abbiamo modern tube lead quindi avete la possibilità anche di registrare al volo una chitarra per dire american vintage gli potete mettere addirittura un il cabinet emulator quindi potete scegliere il cabinet se il microfono è dinamico condensatore vicino lontano a fuori asse in asse questa è una cosa interessante perché non si è limitato a darti i classici tool da mix ti ha dato anche dei tool per registrare quindi magari te che sei interessato a home recording a lavorare in casa i capo multimedia ti mette a disposizione un prodotto che ti puoi installare su un tuo laptop con una schedina audio portartelo in giro avere sempre a disposizione quindi il tool specialmente per i chitarristi il tool per registrare le chitarre con i suoni i capa multimedia che comunque negli ultimi anni come ho fatto in un video di ampli tube sono molto interessanti poi una volta registrato addirittura puoi andarti a mettere e qui la cosa veramente si fa interessante perché adesso svuotiamo tutto così non sto occupando tutti gli otto slot oltre agli amplificatori quindi tutto quello che i loro ampli che ti mettono hanno aggiunto anche una sezione di effetti di effetti che è molto molto interessante quindi vedete qua addirittura c'è il blend sotto attivando questa campanella di ogni componente che andate a mettere c'è il blend dry wet poi se non mi ricordo male qua c'è la quantità di effetto da mandare poi ovviamente spento e acceso però vedete aggiunge anche i delay con delay un reverb delay e il tape echo cioè sono tutti effetti che loro normalmente hanno nella loro suite che trovate quindi li hanno proprio i plug in esterni però la cosa veramente interessante è oltretutto riverberi anche tanti riverberi modulazioni tipo chorus quindi potete anche farvi la pedaliera volendo e questo secondo me è un valore aggiunto per il prodotto perché è un valore aggiunto perché veramente potete ragionare di scrivervi la canzone farvi il brano in casa quindi in giro andate in albergo chitarra scheda audio e portatile con questo avete anche gli ampli quindi magari non avete ampli tube perché non avete comprato ampli tube perché costa troppo ok detto brutto brutalmente però cosa fate vi comprate questo prodottino qua prendete questo prodotto che vi dà tutto vi dà il suo interno a tutti questi tutte queste simpatiche cose qua se andiamo a vedere su e k multimedia eccolo qui c'è lo dice qua che ci dà infinite cose vedete adesso qua così lo vedete un po più veloce e un po più spedito eccolo qui quindi c'è veramente adesso in offerta lancio a 250 euro da come ne questo video compressori e qualizzatori addirittura vintage e cool pool textile insomma tutte le cose che normalmente io utilizzo in fase di in fase di mix ci sono cose che io utilizzo normalmente è molto interessante questo prodotto secondo me quindi questo video veloce di quelli che non fanno insomma vi faccio solo vedere una novità che uscita novità che non è una novità nel senso che sono prodotti che i k multimedia ha già nel suo nel suo bagaglio esistono altre aziende che fanno questo sistema a serie 500 però la novità è quella che vi ho detto secondo me la cosa più interessante avere anche la possibilità di avere amplificatori per chitarra ed effettistica nella channel quindi potete inserire anche di lei riverberi nel vostro nel nella vostra strip quindi crearvi il pre compressore e poi aggiungere magari successivamente un riverbero e un delay quindi è molto molto interessante quindi detto questo ho già parlato troppo ti consiglio di andare a visitare il sito delle k multimedia scaricarti la versione demo provarla e capire se un prodotto che ti può interessare secondo me se un sei all'inizio quindi un primo prodottino dove vuoi avere un po di roba è molto è molto utile quindi ti rinvito lì ti rimando l'invito a iscriverti lasciare un like un commento condividere attiva anche la campanella seguirmi sui miei canali social e quindi niente alla alla prossima ciao